Ciao a tutti, in questo video vi voglio presentare l'ultima nata in casa stile, un rasaerba speciale, l'RMA756V, un rasaerba ritenuto professionale ma anche adatto per un privato molto esigente o chi non vuole usare il trattorino ma ha bisogno di una macchina molto potente. È una macchina a batteria e puoi usare diversi tipi di batteria, in funzione della batteria che io posso applicare, quindi le batterie a P che io ho già in mio possesso oppure le batterie a zainetto possono andare da un minimo di 660 metri a un massimo di 3100 metri. È una macchina molto potente quindi riesce ad affrontare anche erba molto alta, riesce a fare sia il carico su un cesto da 80 litri ma riesce a fare anche un ottimo matching. I particolari costruttivi di questa macchina sono innovativi, sono speciali, poiché abbinata ad una scocca in magnesio abbiamo molte parti in plastica high-tech che unite insieme danno una robustezza unica e quindi è una macchina che pur essendo molto grande è una macchina molto agile, molto leggera e questo non è un elemento secondario per quanto riguarda la funzionalità della macchina. È una macchina che ha un variatore di velocità, quindi posso individuare la velocità più idonea in base all'altezza dell'erba e le ruote anteriori sono pivotanti. Posso regolare tutte le ruote all'altezza preferita per quanto riguarda l'altezza la regolazione è singola su ogni ruota. La stegola è reclinabile e si può mettere anche a diverse altezze in base all'operatore. La macchina è larga 63 cm. Un altro particolare molto importante è la forma delle lame. Sono delle lame a flusso ottimizzato e comunque le stesse lame sono in grado di fare sia un'ottima raccolta ma anche un ottimo matching. E quindi definitivamente se avete bisogno di un rasa erba estremamente robusto, non volete usare una macchina a scoppio e avete la necessità o avete l'esigenza personale di avere una macchina che non faccia rumore, sicuramente questa è la soluzione. Per maggiori informazioni o per ordinare la macchina cliccate sul link in descrizione e potete acquistare direttamente sul sito. Ciao a tutti e buon taglio!